buongiorno perché sto registrando di giorno l'eligosta e l'elislaco anche se con sta luce sembrano più spiritica del solito in contrasto con la parete anzi no in assorbimento con la parete dunque consigli pratici per ripulire l'anima soprattutto in estate che ce ne dà maggiore possibilità come si possono pulire i pensieri negativi come si possono scaricare i traumi le ossessioni ripulire completamente l'anima è facilissimo semplicissimo e non servono soldi e eventuali ritualisti e robe varie che ti propinano 500 euro di candele o cavolate del genere come al solito io da buona medium spirituale ma anche genovese tengo al risparmio e non c'è tra l'altro pulizia migliore che quella che ci può dare la natura esempio se siete al mare vi basta mettere il corpo a bagno nell'acqua dopodiché vi immergete più o meno all'altezza della vita mettete le mani dentro l'acqua chiudete gli occhi e mentre l'acqua fa avanti e indietro su di voi come succede al mare e sentite questo spostamento della marea immaginate immaginate che siete tutte sporche o sporchi sporchi pieni di terra di crosta e di spazzatura di rumenta come si dice a genova e che più state lì e più questa sporcizia si scrosta cade nell'acqua e queste onde che vi stanno picchiando la mandano via più tempo starete in questa situazione con questa visualizzazione con gli occhi chiusi e più pulirete anche i vostri pensieri saranno più puliti più chiari vi toglierete ossessioni vi toglierete paure vi toglierete tutto ciò che opprime la mente e di conseguenza l'anima se siete in montagna se siete in montagna se ci sono alberi toccate materialmente l'albero poggiateci le mani o abbracciato io non lo abbraccio per la questione che ci sono sempre insettini in giro per il tronco e poi mi finiscono addosso e la cosa non è che mi faccia particolarmente piacere amo tutti gli animali ma gli insettini addosso non mi piacciono quindi ci poggio le mani ma se uno vuole abbracciare l'albero lo faccia pure toccate il tronco e allo stesso modo come per il mare immaginate che siete zozzi sucidi lordi lerci zozzoni pieni di croste di terra e di spazzatura e che questa spazzatura scivola verso le vostre mani entra nel tronco dell'albero e va a essere buttata fuori dall'albero stesso attraverso le sue radici anche in questo caso più tempo ci starete e più vi renderete conto che i pensieri si puliscono vi sentirete quasi leggeri rinati se siete in campagna non ci sono alberi non ci sono mari e quindi non c'è l'infrangere dell'onda su di voi potete farlo con la terra vi sedete in terra in terra però non sull'asciugamano in terra sporcherete i pantaloni non fa niente la lavatrice lava per voi giuro siamo nel 2022 poggiate tutte e due i palmi delle mani sulla terra e sempre lo stesso metodo quindi vi immaginate zozzi pieni di spolvere rumenta spazzatura incrostati che pian piano cade 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 si sbricciola e cade nel terreno attraverso la terra viene assorbito pulito e voi vi ripulite sempre occhi chiusi per gli alberi per il mare per la campagna se siete al lago la stessa cosa cercate uno di quei punti dove ci sono quelle piccole cascatelle dove ci sono quelle due tre rocce che fanno cascare l'acqua del lago o del fiume leggermente in giù vi sedete dentro al lago o al fiume con la schiena rivolta dove picchia l'acqua che scende quindi le roccette più alte la cascatella deve stare dietro alla schiena in modo che vi colpisca l'acqua le mani sempre dentro l'acqua e anche in questo caso stesso pensiero sono sporchissima sono piena di schifezze appiccicate c'ho anche una gomma da masticare qua e piano piano il tutto si stacca si scrosta si sbricciola finisce dentro al corso del fiume e il fiume mano a mano che io resto lì con gli occhi chiusi a immaginare porta via tutti questi detriti alcuni suggeriscono anche di entrare in contatto con la natura attraverso gli animali vero che certi animali ci puliscono ci purificano come il gatto per esempio non solo il gatto ma in generale è il più conosciuto il più facile da carezzare visto che in tanti ce l'abbiamo in casa ma con gli animali non è cosa tanto buona e giusta farci farci purificare da loro perché perché quello che noi scrostiamo molti animali lo assorbono e quindi facciamo del male all'animaletto e non è una cosa carina piuttosto che fare del male a un animale mi tengo io la rogna addosso per cui io quel metodo lì lo sconsiglio vivamente con le rocce siamo in montagna non ci sono alberi è una di quelle montagne da scalata che è solo rocce in quel caso lì devo prendere due rocce prendo due pietre perché non ce l'ho le rocce faccio solo le pietre prendo due pietre dal terreno in mano le tengo per un certo periodo con gli occhi chiusi nelle mani in modo da entrare in sintonia vibratoria con quelle pietre dopodiché mi siedo a terra poggio le due pietre a terra e i palmi delle mani li poggio sulle pietre che ho tenuto in mano un dieci minuti buoni prima poggiandoli in questo modo entrambe le mani su entrambe le pietre inizio a pensare a questo scarico come prima tutta la zozzeria che scarica va a finire nella roccia la roccia si ingrossa e si andrà a fondere col terreno stesso scaricando sempre a terra tutta la vostra zozzeria animica siamo tutti zozzi animicamente non è non c'è la persona estremamente pulita perché perché ci sportiamo l'anima con i pensieri con i desideri con le ossessioni con ciò che non abbiamo che vorremmo con un attacco di rabbia che ci viene leggendo un articolo io quando lessi per esempio di quella donna che ha lasciato morire la bambina in casa e se n'è andata per andare a stacco il fidanzato nuovo mi è salita una futta di nervi che nonostante io sia estremamente spirituale sappia che tutto ciò che accade ha un motivo accetti tranquillamente sia la morte sia altri eventi senza né paure né ansie né altro in quel frangente mi era venuta un nervoso che la metà bastava ecco quindi una persona che magari è meno incline a conoscere la spiritualità posso solo lontanamente immaginare quanto si sporchi l'anima quanto l'anima si appesantisca e questo questi metodi sono i metodi migliori perché ho detto in estate perché normalmente più in estate che possiamo girare per luoghi naturali come il mare come al lago e via dicendo ci sono anche dei metodi casalinghi che un po ripuliscono come comprare della terra metterlo dentro a un vaso e mettere le mani sulla terra stessa gli alberi li troviamo anche in città basta andare al parco e un albero lo troviamo l'acqua apriamo il rubinetto mettiamo i polsi sotto al rubinetto e facciamo scorrere però è una pulizia diciamo alla buona è una pulizia che va bene quando noi abbiamo fatto un ripulist totale magari nel periodo estivo più di una volta e poi nel periodo invernale manteniamo un minimo di pulizia animica di alleggerimento animico con questi accorgimenti il vaso con la terra il rubinetto con l'acqua e via dicendo però non è un purificatore completo molti anche scaricano specialmente alcuni che fanno reiki o pranoterapia ancora di più hanno il vizio di scaricare nel lavandino scarichi ma non è una purificazione vera e propria il lavandino e intanto l'acqua del lavandino è addizionata al cloro c'ha un sacco di questioni differenti che non è come l'acqua naturale di sorgente piuttosto vai un attimo al fiume se c'è freddo non ti bagni però le mani le metti nel fiume e ci fai scorrere l'acqua sopra quella è una pulizia totale nel rubinetto è un paracchiappe può aiutare però non è la stessa cosa è un po come un rituale che ho letto da qualche parte che adesso mi sfugge ma in qualche pagina facebook dove gironzolo ok ed ecco sto rituale che era non ci faccio mai molto caso io perché sti riti che girano per il web sono tutti all'acqua di rose ma non mi ricordo se era per attirare la fortuna del solito per attirare denaro per una cavolata di queste e tra gli ingredienti quindi candela di cera d'api naturale essenza naturale di quella data erba che adesso non mi ricordo e a certo punto sotto leggo acqua minerale fare un rituale con l'acqua minerale cioè l'acqua in bottiglia le cose sono due o questo rituale se lo sono inventato negli ultimi 50 60 anni e oggettivamente io un rituale con l'acqua minerale non lo farei mai perché anche le le antiche entità di supporto arrivano ti prendono a sberle e se ne vanno o io non ho idea di dove sia uscito un rituale con l'acqua minerale perché qualsiasi rituale va fatta con l'acqua che sgorga con l'acqua anche del rubinetto perché alla fine è un acqua di fonte no è un acqua idotto nasce dalle fonti nasce dai laghi e va bene quella del rubinetto quella della fontana quella del fiume quella se se proprio è necessario quella del mare vabbè quella del mare è salata c'ha delle altre componenti ma quella del lago quella appunto della sorgente ma quella minerale su un rituale leggere ingredienti acqua minerale non si può leggere è veramente qualcosa di penoso è come leggere di un mettere un porta candele in plastica sono quelle cosette che proprio io ma anche fossi neofita anche non avessi studiato la ritualistica anche non avessi le conoscenze che ho anche fossi proprio alle prime armi e avessi avuto nozioni di magia solamente da crimi da magica emi e da l'incantevole evelyn come si chiamava cioè solo dai cartoni animati in poche parole mi verrebbe per senso che l'acqua in bottiglia l'acqua minerale la roba di plastica la roba di nylon per un rituale non ha mai senso di essere non ha mai senso di esistere sono materiali moderni sono materiali che nell'antica scuola non esistevano non potrebbe mai un ritualista fare un rituale con un porta candele di plastica io ho visto cose astruse ho visto gente che faceva le purificazioni dell'acqua e sale con un bicchiere di carta e perché così poi lo butto ma che c'entra non puoi fare il rituale col bicchiere di plastica chiamato di carta che poi di plastica o mettere le candele nel piatto di plastica perché tanto poi almeno butto tutto ma stiamo scherzando a prescindere che fortunatamente quei rituali lì non funzionano e basta ma a persone che usano determinati materiali meno male che non funzionano perché altrimenti veramente farebbero soltanto degli scempi se funzionassero in quel modo la magia nasce dalla natura qualsiasi magia nasce dal potere vibratorio di chi la esercita e dalla natura quindi ci devono essere obbligatoriamente questi due componenti cose naturali e vibrazione personale energetica quindi convincimento il credere in quello che si sta facendo il farlo nel modo giusto e quant'altro ma tutto solamente a livello di materiali naturali che di conseguenza hanno una vibrazione energetica una cosa di plastica io li uso per farmi la coda ma una cosa di plastica non ha nessuna vibrazione non è non serve a nulla non espande nemmeno la cera della candela e quindi leggere acqua minerale magari anche gasata mi ha dato un senso di sconforto veramente elevato comunque piccolo video piccoli consigli ma ritengo che siano utili perché a volte uno non ci pensa ma magari al mare non sa che cavolo fare ma perché non diamo una ripulita all'anima o sta passeggiando in un bosco ma perché non dare una ripulita all'anima all'anima mi sono data all'anima tutto fa tutto io accendo 10 20 volte al giorno due secondi e mezzo il mio palo santo ogni tanto sfumazza qui 3 4 minuti perché poi si spegne ma va bene poi poi faccio la purificazione una volta ogni tot in casa col sacco e sale con la salvia bianca e col palo santo passato in tutte le stanze ma tanto che sono qui sono sedute c'ho il mio pezzettino che di solito lo uso per fare le foto di metavisione questo pezzettino qui io i pezzetti li tengo sempre per la metavisione e via dicendo perché male non fa se fa una fumata intanto male non fa se sono al lago e riesco a scaricare un attimo un po di schifezze che ho accumulato male non fa mettere anche la collanina male non fa chiedere un consiglio a uno dei tuoi libri oracolari qualsiasi ce la faccio a fare i video oggi no non va bene per te cambia strategia e cambia strada e lo sapevo già perché me ne mancano ancora 11 non ce la posso farce la parto domani mattina non ce la farò mai ma intanto carico questo può essere che qualche giorno abbiate visto il salto del canguro e sia saltato il video organizzerò magari gli orari in modo che ci sia uno stacco minore e che quindi uno o due giorni vengano coperti perché non so come fare che taggia di che taggia fa detto questo piccoli consigli per pulire l'anima ma secondo me utilissimi semplicissimi gratuiti a cui nessuno pensa mai e mi stupisco di questa cosa a parte che siamo in un'era assurda siamo in un'era nella quale la gente è convinta che se spende di più è meglio la questione e non si rende conto che almeno su certi frangenti è il contrario ma chi vivrà vedrà ognuno la pensi come vuole mi è venuta l'idea per continuare il discorso su un altro video da caricare che potrei intitolare la magia sintetica ne parlo nel prossimo